da notare che c'è anche i piedi guarda che bello come fashion ciao a tutti benvenuti e bentornati nel canale allora oggi vi voglio far vedere degli acquisti che sono arrivati da Aliexpress finalmente perché ci hanno messo un bel po' questa volta e cosine che ho invece comprato io non sono tantissime cose ma sono carine insomma a me piacciono e quindi vado a farvele vedere non riesco a parlare oggi e morì così un video sgozzata dalla propria saliva ciao a tutti benvenuti e bentornati nel canale no ciao a tutti benvenuti e bentornati nel canale oggi sono con voi per farvi vedere il make up che sto più utilizzando in questo periodo sono tutte cose low cost ovviamente perché sapete che io per il make up non spendo cifre esagitate esuberanti esorbitanti ciao amici benvenuti e bentornati nel canale come state? io spero che voi siate veramente bene che sto facendo? non lo so ciao a tutti benvenuti e bentornati nel canale allora oggi video sui film che ho visto praticamente in questa prima parte dell'anno no questa metà anno metà anno sì metà anno sì metà anno prima parte cioè metà anno vuol dire metà dell'anno quindi si potrebbe dire però non mi piace come sta nella frase metà anno tanto rifaccio si vede topolino di là topolino forza forza yuhuu ciao sono arrivata oddio quanto è comodo non l'avevo ancora provato comunque sono arrivata all'hotel di Venezia la stanza è piccolina ma è molto molto carina molto in stile veneziano proprio non so se si vede il letto sembra molto da da come posso dire d'epoca insomma un filo è così sono proprio appena appena arrivata fa un caldo sì se riesco a stare ferma magari ok fa un caldo allucinante rispetto a dove da dove sono partita io e adesso devo rifare tutto perché mi fa tagliare rimanendo in tema lampade mi sto strozzando e non va bene pausa non so ok il secondo prodotto che pesco dalla magica scapola sono queste altre ciabatte super enormi ah che meraviglia che sono guardate due unicorni ma ok ragazzi sono finalmente arrivata alla mia bellissima piazza castello ho fatto una una corsa praticamente in via garibaldi non ho guardato nient'altro che tiger come avete visto dalle riprese e fa freddo fa freddo mamma mia a me non mi piace il freddo adesso vi faccio vedere come ho dovuto girare questo video cioè voi capite il disagio di non ridere mentre io sono qui con tutto questo cavalletto eccetera gatto 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 cosa ne pensa del mio unboxing le piace? gli regalo la sfera pochè la vuoi? si lui si è sdraiato letteralmente sopra il mio quaderno degli appunti almeno saluta dai almeno saluta ciao ciao a tutti benvenuti e bentornati nel canale mi sono accorta che mi che cavolo ha la sopracciglia che mi gratta mi ha già morso una zanzara non ci posso credere appena c'è il sole escono ste bip io oggi farò un omicidio lo so cioè avete finito di passare davanti alla mia finestra e fare casino e parlare e parlare e farvi mettere in pausa il video no no l'hanno finito è complicata perché 1 500 euro per me sono veramente tanti che cosa è stato? scusate un attimo buongiornissimo benvenuti e bentornati nel canale allora sono su un treno praticamente ci sono solo io quindi wow posso parlare tranquillamente sto andando a Torino sto andando a Torino al Festival d'Oriente e poi ci saranno tanti altri festival intanto questo effetto è meraviglioso io sono completamente accecata quindi adesso mi girerò così ciao a tutti benvenuti e bentornati nel canale oggi registro un video tag perché ho detto video tag video tag video tag video tag e poi che cosa è sta roba perché c'è scritto sto finendo la memoria oh mio dio video tag Grazie a tutti